. Barbara d'Urso alla conduzione del Grande Fratello? L'indizio . Grande Fratello, Barbara d'Urso verso la conduzione? L'indizio lanciato in tv. . Barbara d'Urso condurrà la nuova edizione del Grande Fratello? Ancora nulla è certo, stando alle voci di corridoio provenienti dall'azienda di Cologno Monzese, addirittura non si saprebbe nemmeno se il reality versione NIP prenderà il posto dell'Isola dei Famosi. . A dare una conferma plausibile è stata la diretta interessata Alessia Marcuzzi, la quale a chi ha incastrato Peter Pan ha confermato il suo ruolo di conduttrice all'Isola, prevista durante i primi mesi di gennaio 2018. . Quindi le voci sul ritorno del Grande Fratello erano false? Ciò che sicuramente è certo, è la grande volontà di Barbara d'Urso, soprattutto negli ultimi tempi, di ricordare la sua esperienza all'interno del reality di Canale 5 nelle vesti di conduttrice. . Infatti, sin dalla prima puntata di Domenica Live, Barbara ha sempre indossato dei vestiti, che lei chiama abiti vintage, che aveva indossato durante le dirette del GF, ben 15 anni fa. . . Insomma, una sorta di tributo che però a ridosso di queste ultime voci di corridoio sarebbe una coincidenza davvero strada, insomma, cosa sta bollendo in pentola in quel di Cologno? Barbara potrebbe ritornare in prime time proprio con la conduzione del GF, oppure è soltanto un suo ricondito desiderio?. . Barbara d'Urso condurrà il Grande Fratello? Lei lancia il sospetto. Barbara d'Urso anche durante la puntata di Oggi di Domenica Live ha indossato un abito che si era messa durante una puntata del Grande Fratello. . . Il vestito in questione è un tubino nero con delle scritte bianche poste nella parte anteriore dell'abito, e la conduttrice napoletana ha voluto mostrarlo in anteprima ai suoi followers caricando una sua foto sul suo profilo Instagram. . Per la precisione, la d'Urso ieri sera ha postato uno scatto proveniente da una puntata che aveva condotto al Grande Fratello, la foto la potete vedere in fondo all'articolo, e ha poi scritto queste parole nella didascalia dell'immagine. . A proposito di tendenza vintage e questo tubino nero l'ho indossato 15 anni fa ai tempi del Grande Fratello e chissà. Magari domani lo indosso di nuovo a Domenica Live. . . Pochi minuti prima dell'inizio della diretta del Rotto Calco Domenicale, Barbara ha caricato sempre nel medesimo social una foto di lei in camerino proprio con il vestito di cui aveva parlato la sera prima, e orgogliosamente ha affermato che lo avrebbe indossato durante la prima parte del talk. .